come potete vedere ho un tostapane ma non è questo il discorso ho poco spazio c'è un po troppa roba non so più dove mettere le cose molte cose le porto via alcune cose le elimino faccio spazio è un po è un po difficile ad esempio non so dove mettere questa però io ho quest'altro locale qui che una volta era abitabile questo locale una volta era abitabile ripeto qui c'era un bagno lì c'era una specie di cucina qui c'era un caminetto che andava lì c'è la canna fumaria e qua c'era un tavolino un letto insomma era uno spazio abitabile era intonacato era addirittura completamente intonacato pure la volta in pietra era intonacata il che è un è un delitto perché questa volta in pietra è antica tutta questa struttura è antica credo fine del seicento poco dopo il terremoto del 1693 solo che ho sempre avuto grossissimi enormi problemi di umidità umidità filtrava dalle pareti si creava sal nitro continuava uscire umidità da tutte le parti quindi un giorno mi son detto ok risolviamo il problema dell'umidità e mi sono messo a rimuovere un pezzettino di intonaco da qui magari se trovo le foto le inserisco io ho scoperto che non c'era uno strato di intonaco c'erano sette strati di intonaco uno sull'altro tutti i verniciati quindi c'era l'intonaco poi le vernici e poi l'intonaco per le vernici c'era uno spessore di diciamo un 10 centimetri di intonaci uno sull'altro poi tutta questa volta era cementata e intonacata stessa cosa da questo lato il pavimento c'erano sette pavimenti uno sopra l'altro quindi piastrelle con sopra cemento con sopra altre piastrelle con sopra altro cemento con sopra altre piastrelle il pavimento era alto un 15 centimetri si può dire qua si può vedere l'altezza il pavimento arrivava qui piastrelle e cemento questo che sono riuscito a tirare fuori con molte bestemmie è il pavimento in cotto originale che c'era sotto al di sotto di questo non c'è nient'altro sotto queste piastrelle c'è la roccia questa roccia calcarea questa stanza sostanzialmente è scavata nella roccia come potete vedere inizia da qui la roccia sale un po poi scende e a questa altezza e è una specie di vasca su cui poi hanno messo queste pietre su cui poi hanno appoggiato la volta che c'era una volta ora da quando ho tolto gli strati di intonaci e di piastrelle da qua sotto è affiorata acqua a non finire per i primi giorni e poi finalmente quest'acqua ha avuto sfogo il pavimento si è asciugato e nel corso di due anni sono riuscito a ripulire intorno c'è tutto mi ha aiutato anche un amico un muratore molto bravo che ringrazio si chiama conrad veramente in gamba e scavando scavando sono venute fuori queste cose qui c'era un ci sono i resti di quello che poteva essere forse un forno che andava lì questo era completamente intonacato anche lui chiuso dal cemento qui ce n'è ancora un po che farò sicuramente saltare qui c'era addirittura una specie di fossa che si vede in un altro video quello in cui parlo dello scavare del recuperare il materiale il materiale sarebbe questo come vedete che dovrò chiamare qualcuno per farlo portare via ovviamente in modo legale quindi viene smaltito in discarica oh un tubo che bello e insomma questa è la situazione ora perché ho tirato fuori questo pavimento che è completamente rovinato boh non lo so però voglio fare un esperimento siccome qua ci sono ancora tutte le tracce bianche degli intonaci e della colla per mattonelle che è stata messa voglio vedere se riesco a pulire una mattonella con la smedigliatrice in alcuni punti è venuto fuori la mattonella pulita in altri invece è rimasto uno schifo perché questa cosa è veramente difficile da togliere quindi vediamo se riesco a dare una pulita per fare questa cosa ho tanti di questi questi sono stati usati per pulire la volta che c'era una volta e quindi proverò con uno di questi che è consumato ma ancora si può usare e userò la smedigliatrice angolare cercando di farmi del male vediamo se mi casca tutto addosso ecco fatto qualcuno ha già chiamato la polizia per farmi arrestare bene ok proviamo alla fine non ho fatto un video ma ho solo fatto due foto e questo è il risultato su una piastrella ci ho messo un bel po di tempo è venuta bella lucida però tutto questo ha creato un mare di polvere considerando che di queste piastrelle se ne recuperavano solamente diciamo il 40 per cento ho desistito quindi alla fine questo pavimento è stato rimosso siamo arrivati alla roccia sottostante poi c'era in realtà c'erano altri dieci 15 centimetri di terra sotto e quindi niente si farà un pavimento nuovo con una camera d'aria interna con i cosiddetti granchi di plastica per creare appunto la camera d'aria per consentire un passaggio d'aria anche attraverso le pareti che saranno poi messe di cartongesso e creare una circolazione d'aria evitare l'accumulo di umidità è tutto qua